La storia inizia con un uomo di nome John. Le cui figlie lo avvertono che c'è qualcuno in casa. Ignorando la loro preoccupazione, John controlla la casa, trattandola come un gioco. Improvvisamente, le persone presenti in casa lo attaccano. Uno degli aggressori, di nome Luke, uccide la moglie di John e poi sua figlia. La scena si sposta in un ospedale dove ritroviamo John. Il medico gli dice che è in coma da nove mesi e gli presenta un agente dell'FBI. L'agente dell'FBI chiede a John dell'incidente che ha ucciso la sua famiglia, ma la sua memoria è confusa, tranne che per la data della tragedia. L'agente dell'FBI gli mostra una foto di Luke, un ex soldato diventato traditore, e gli lascia un biglietto da visita. Dopo una chiamata dello stesso agente dell'FBI, viene attivato un idraulico. Vediamo un personaggio di nome Magnus che inizia a comportarsi in modo strano e vomita. Poi si mette alla guida del suo camion. John, nel frattempo, lascia l'ospedale e si dirige verso casa, pieno di tristezza quando ricorda la sua famiglia. Più tardi, Magnus viene visto in uno strip club, dove uccide un'anziana signora e passa a uccidere altre persone. Magnus raggiunge infine un'aula di tribunale dove combatte contro un personaggio di nome Scott. Durante il combattimento, Scott inietta un siero a Magnus, assumendone il controllo. Sotto il comando di Scott, Magnus si sente dire che ora è libero, ma deve combattere per loro e contro il governo. In seguito, John riceve una telefonata da un certo dottor Isaac, che si presenta come amico di John e gli chiede di incontrarlo a casa. Tuttavia, John non ricorda nulla, compreso il suo nome. Più tardi, il dottore gli dà l'indirizzo di casa sua. Quando John arriva a casa sua, trova un corpo brutalmente assassinato. Nelle vicinanze scopre una sua foto, che solleva altri interrogativi. Vede anche un registratore, che porta con sé quando se ne va. John fa suonare il registratore, che rivela dettagli su un uniforme e su come un medico possa preparare qualcosa di rapido per lui. In seguito, John segue gli indizi del biglietto ricevuto e si reca in un bar. Lì incontra una ragazza di nome Sarah. John cerca di farle delle domande, ma lei lo ignora. John esce fuori, ma Magnus appare improvvisamente e inietta a John un siero simile a quello usato su di lui. Non riuscendo a sconfiggerlo, John viene cacciato e lasciato in cattive condizioni. John torna a casa, ma Magnus lo attacca di nuovo. Durante la lotta, Magnus taglia le dita a John. Con l'aiuto di Sarah, John riesce a reagire, tagliando la gamba di Magnus. In seguito, vediamo Scott, che ispira molti soldati e persone come Magnus a combattere per la loro libertà. Apprendiamo che questi soldati stanno combattendo contro il governo, cercando di liberarsi. In seguito, vediamo John e Sarah. Sarah rivela che un tempo John e Sarah erano innamorati. John guidava un camion e non vivevano in una casa tipica, ma in una piccola capanna vicino al fiume. Questo confonde John, che non ricorda nulla di tutto ciò. Più tardi, John contatta Gorman e gli dice che sta assistendo a cose che accadono in tempo reale. Lo informa che sospetta che dietro a tutto ci sia Luke, ma non è sicuro del suo legame con tutto questo. Poi vediamo Magnus, la cui gamba gravemente danneggiata è ora quasi completamente guarita. Con l'aiuto di Sarah, John trova la strada per raggiungere un'azienda dove consegnava merci con un camion. Incontra un uomo di nome Larry e gli chiede l'indirizzo di consegna. Tuttavia, Larry nega di avere informazioni e dice che solo un certo Ron può fornirgliele. John incontra quindi il signor Ron, che non sembra voler dare risposte chiare. Frustrato, John mostra al signor Ron una foto di Luke chiedendogli se lo conosce. Il signor Ron dice a John di andarsene, sostenendo che Luke è il suo superiore. Alla fine, il signor Ron ammette che le cose di John giacciono tra loro da molto tempo, lasciando John con più domande che risposte. Tuttavia, quando John approfondisce, scopre che è stato lui a uccidere il suo stesso amico. Isaac è stato ucciso, come gli mostra il signor Ron sui nastri. John si reca quindi da Sarah, chiedendole l'indirizzo del luogo in cui aveva soggiornato una volta con Sarah. Sarah era stata una figura importante nella vita di John, che sperava che rivisitare il passato gli avrebbe fornito alcune risposte. Tuttavia, prima che John possa fare dei progressi, viene attaccato da Magnus, che gli sta dando la caccia da tempo. Mentre la battaglia tra John e Magnus si intensifica, il loro scontro si riversa in un negozio. Entrambi gli uomini combattono strenuamente e appare chiaro che i due sono in perfetta parità. Tuttavia, dopo un estenuante scambio, John ottiene finalmente l'opportunità di cui ha bisogno. Con una mazza da baseball in mano, John colpisce Magnus con tutta la sua forza, facendolo a pezzi. Alla fine, Magnus viene ucciso e John rimane in piedi vittorioso. Nonostante la vittoria, John rimane profondamente turbato. Nel corso degli anni, ha sopportato innumerevoli ferite e battaglie, eppure si accorge che le sue dita mozzate iniziano a rigenerarsi, quasi per magia. Questo strano evento non fa che accrescere il senso di inquietudine di John. Deciso a scoprire la verità, John si reca in un luogo che Sarah gli ha indicato come la baita, dove incontra un'altra versione di se stesso, un altro John. Quest'altro John gli rivela un segreto sconvolgente. Anni prima, John aveva ucciso Isaac, uno scienziato che lo teneva sotto controllo. All'epoca, John lavorava per il governo. Ma a un certo punto le cose sono andate storte. L'altro John spiega che l'Unisal, un'organizzazione oscura, aveva reclutato John tra le proprie fila, promettendogli potere e conoscenza in cambio della sua fedeltà. La verità comincia a svelarsi. John scopre che il governo lo ha usato per i suoi scopi e che è stato manipolato dalle stesse persone di cui un tempo si fidava. Era stato un burattino in un gioco molto più grande. Ora, con questa nuova conoscenza, John inizia a rendersi conto della portata della sua situazione. L'organizzazione gli aveva somministrato un siero, simile a quello somministrato a Magnus, che aveva potenziato le sue capacità ma lo aveva anche legato al loro controllo. Nel disperato tentativo di reclamare la propria libertà, John lotta contro le forze che lo hanno manipolato. Mentre continua la ricerca di risposte, John affronta una nuova minaccia sotto forma di Scott, che tenta di ucciderlo. In un acceso confronto, John riesce a sfuggire alla morte ancora una volta, quando un'altra figura zona spara Scott prima che possa finire il lavoro. Con Scott morto, zona aiuta John a rimuovere un dispositivo che gli era stato impiantato dall'organizzazione. Un dispositivo che aveva tracciato e controllato le sue azioni per tutto il tempo. John, ora libero dall'influenza dell'organizzazione, contatta Sarah e la esorta ad andarsene prima che la situazione diventi ancora più pericolosa. Sa che i loro nemici non si fermeranno finché non li avranno eliminati entrambi. Dopo essersi assicurato della sicurezza di Sarah, John si ritrova in piedi sulla riva del fiume, in attesa di un uniforme che gli permetta di mimetizzarsi e continuare la sua lotta in segreto. Col tempo, John viene portato in una base segreta dove incontra la dottoressa sue. Una scienziata che finalmente gli rivela tutta la verità. La dottoressa sue gli spiega che John è stato creato solo da poche settimane e che tutto ciò che pensava di sapere sul suo passato è stato impiantato nella sua mente attraverso un programma. Con questa rivelazione, John si trova ad affrontare l'enormità della verità. Tutta la sua vita, così come la conosceva, era una menzogna. Le persone che pensava di conoscere, le battaglie che ha combattuto, facevano tutte parte di un elaborato disegno per controllarlo. Il dolore è diventato insopportabile e comincia a colpirlo profondamente. Questo fa sì che John si sfoghi, e nella sua rabbia, inizia a eliminare tutte le unità presenti intorno a lui. Mentre John combatte nel caos, alla fine si trova faccia a faccia con Luke, uno dei potenti agenti del governo. Segue un'intensa battaglia tra John e Luke. Entrambi sono abili combattenti e lo scontro è a dir poco straordinario. Tuttavia, dopo una lotta feroce, John riesce a uccidere Luke. Ma c'è un colpo di scena. Non si trattava del vero Luke. Il vero Luke è ancora là fuori e solo qualcuno con l'appoggio di un'altra figura chiave nel piano del governo può davvero sconfiggerlo. John inizia a ricordare la sua famiglia e le persone che ha perso. E questo ricordo lo alimenta. Un altro soldato che era al servizio del governo riconosce la forza di John e si inchina davanti a lui, in segno di rispetto e sottomissione. Con Gorman sconfitto, John va a riferire il risultato al governo. Ma al suo arrivo viene colpito da un'altra devastante verità. L'intero incontro con il governo e tutto ciò che era accaduto a John facevano parte di un piano accuratamente studiato. Il governo rivela di aver progettato John con un unico scopo. Uccidere Luke. Il governo aveva intenzione di usare il dolore di John per trasformarlo nell'arma perfetta e spingerlo a eliminare i loro nemici. Dopo aver appreso questo, John è sopraffatto dalla rabbia e dal tradimento. È stato usato, è stato indotto a credere che la morte della sua famiglia fosse la forza trainante delle sue azioni. Per poi scoprire che era tutta una menzogna. Infuriato, John decide di prendere in mano la situazione. Si rivolge agli agenti governativi che avevano orchestrato tutto e, in un impeto di giusta furia, spara e uccide il capo del governo responsabile dell'intero piano. Ma la storia non finisce qui. Non appena il funzionario governativo cade morto. Suo figlio, che era sempre stato nel furgone di John, ne esce. Il giovane, anche lui coinvolto nella rete di menzogne e manipolazioni del governo, china il capo davanti a John in segno di rispetto e se ne va. Questo gesto significa il passaggio della torcia. A John, dopo aver sconfitto Luke e aver svelato la verità che si cela dietro i piani del governo, non resta che continuare a combattere. Questo fa presagire la possibilità di un conflitto futuro.